Andrea Tononi, anzitutto grazie per essere in studio di Antena 2 e complimenti per lo spot con la SIAIM. Come sono andate queste giornate a Bologna per la registrazione di questa clip? Allora, grazie. No, le giornate sono andate bene, sono stati tre giorni in tutto, a novembre. Avevamo un bel team, nel senso che c'erano due agenzie, praticamente una che produceva il video e l'altra che dirigeva un po' il tutto. E' stata una bella esperienza, nel senso che abbiamo girato Bologna moltissimo, nel senso che abbiamo girato in tante location diverse, con queste persone che portavano il pianoforte da un posto all'altro, però è stato anche divertente. Tra l'altro è stato molto bello perché a un certo punto uno dei ragazzi della produzione mi ha detto Ah ma tu sei di Gandellino? E la Bologna non era molto, non ero abituato a questa cosa, e infatti questo ragazzo è di Albino e ho scoperto che lavora in questa azienda a Milano, anche lui è Mauro Breda, se non sbaglio. E quindi è stato molto carino, è stato divertente, è stato impegnativo perché comunque ci alzavamo verso le sei di mattina, finivamo alle otto di sera per tre giorni, però per il resto è andata bene. E questo pianoforte rosso è stato spostato un po' in tutti gli angoli della città? Sì, si è stato spostato ovunque, alcune sono state molto divertenti perché suonare per esempio in una salumeria, mentre ci sono persone che entrano e fanno i clienti normali, è stato veramente divertente, però sì, c'erano questi poveri ragazzi che si sono spostati pianoforte per tutta la città continuamente per tre giorni. Il brano? Il brano è di Endofanera, tratto dal mio secondo disco, quindi uscito nel 2013, che uscirà nel prossimo disco come riedizione appunto per questa cosa dello spot. E infatti questa riedizione l'abbiamo registrata al MAT, Museo Artetempo di Clusone, con l'aiuto di Paolo Giudici, che è un fonico della zona. E sappiamo che sei abbastanza coinvolto anche in queste tematiche legate al diritto d'autore e credi anche in qualche aggiornamento un po'. Sì, nel senso che sta arrivando quel cambiamento che da tanti anni noi artisti, soprattutto giovani, volevamo. E quindi anche forse abbiamo un po' deciso io in prima persona di metterci un po' anche la faccia perché se una situazione non va bene e si continua semplicemente a dire questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, senza poi fare nulla, non è funzionale. Quindi era meglio in effetti metterci la faccia e provare a cambiare le cose anche collaborando direttamente con loro.